Ciao, posso robarvi un secondino? Vi dico subito, secondo voi un profumo può rendere felice una persona? Può trasmettere felicità? Felici in che senso? Felici, che ti metti allegria, non so, alla spensieratezza, ti viene voglia di sorridere, di ridere, ti senti una fragranza particolare, ti è mai capitato? Vabbè, può fare dire in mente dei ricordi. Per me la felicità è che siano bene i miei familiari, mio nipotino, mio figlio, per me è una felicità sapere che stanno bene loro, sono a posto. Ma stare bene, avere un lavoro e essere tranquilli, senza debiti e senza preoccupazioni. Con questo profumo che sto per farti sentire, vedrai che sarai molto più felice. Buono. Buono, vero? E secondo voi un profumo può trasmettere felicità? Sì, dipende dal profumo. Dipende dal profumo, vero? Se questo vi rende felici o no? Sì, è buono. È fantastico, vero? Vi sentite un po' più felici che avete incontrato me, che vi ho regalato questo bel momento di felicità? Ricordatevi quindi il profumo della felicità di Collistar. Grazie per la visione!